Cronaca che oggi, 24 marzo, anno 1969, morì il grande Renato Cesarini, a cui noi insomma dedichiamo, esatto, il titolo della nostra trasmissione, Marchigiano come lui, a lui è stato dedicato il prestigioso premio Renato Cesarini, originario di Castellaro di Senigallia e l'anno scorso Daniele Bartocci è stato premiato tra l'altro come miglior giornalista Under 30 proprio al premio Renato Cesarini, organizzato con grandi personaggi di calcio.